Cari colleghi e cari colleghi, nella speranza di vedervi a Colonia vi racconto in due parole di che cosa tratteremo durante i due interventi a mia disposizione. Nel primo intervento vedremo la cornice teorica entro cui si scrive la didattica ludica, capiremo gli aspetti competitivi, cooperativi e faremo un piccolo approfondimento sulla dimensione dell'apprendimento cooperativo del cooperative learning. Ovviamente il tutto applicato sempre ad attività pratiche. Nella seconda parte, che è ancora più dedicata alla dimensione operativa, vedremo alcune attività nelle quali appunto sperimentare direttamente e in modo critico i concetti presentati durante la parte introduttiva. Spero proprio di vedervi e vi saluto a tutte e a tutti.